Grazie, poche parole da liberale e poche parole da dirigente dello Stato, perché mi sembra che entrambe le vesti possano essere utili per un contributo a questa discussione. Il primo tema, la critica liberale, da anni pone il tema di riunire i dispersi. La critica liberale, come forse sapete, è la rivista erede della tradizione del liberalismo di sinistra, era il nome della gloriosa ciclostile dei giovani della sinistra del Partito Liberale che vennero cacciati da Giovanni Malagodi ai tempi in cui la politica era una cosa seria, insomma, e sulle posizioni di principio e non sulle questioni di poltrone magari ci si divideva. Da anni riponiamo il problema dei riuniri i dispersi su un filo ideale che è quello del mondo di Pannunzio, abbiamo rilanciato questo slogan del rilancio del riformismo borghese. Oggi è molto circolata questa parola borghesia, in tempi in cui la politica sembra pensata soltanto per partiti pigliatutto o addirittura per partiti che puntano all'unanimità, che è meraviglioso. Ricordo in apertura della rivoluzione liberale Piero Gobetti dice una frase fulminante, l'alternativa secca, vera, non è fra libertà e dittatura ma è fra libertà e unanimità. Oggi ci sono partiti che democraticamente aspirano all'unanimità. Naturalmente viene spontaneo aderire all'iniziativa di questa sera del Cantiere delle Ragioni che è stato definito anche con un perimetro abbastanza chiaro in termini di rivendicazioni di culture che avevano una precisa identità anche in termini antifascisti, in termini di definizione di una politica di progresso. Da questo punto di vista il gruppo di critica liberale è disponibile a qualsiasi tentativo serio di ricostruzione di ragioni solide per lo stare insieme. perché il ragionamento in termini arittimatici è presto fatto. Mediamente, al vuoto per pieno, nelle ultime consultazioni politiche ha votato metà degli aventi diritto. All'ultimo referendum costituzionale ha votato quasi il 70% degli italiani. e guarda caso su un tema tipicamente della tradizione liberale, che era quello, poi naturalmente si poteva essere anche per il sì, per il no, abbiamo visto quanti hanno votato turandosi il naso per l'una o per l'altra posizione. Però era un tema tipicamente liberale, insomma, questo dell'alternativa secca fra il decisionismo e i contrappesi, su cui molto si è insistito una parte dei promotori del comitato per il no, penso insomma, liberali come Zagrebelsky. Ecco, mi pare abbastanza una dimostrazione di come un aumento della partecipazione elettorale corrisponda il ritorno al successo di alcune parole d'ordine che erano tipiche di questa tradizione. Pensiamo a tutto il dibattito degli anni 50-60 sulle leggi elettorali in quella fase lì, sulle possibilità di riaggregazione. Credo veramente che ricominciare a declinare anche in termini di segmenti sociali, quei segmenti della società civile a cui faceva riferimento Stefano Orlando, le borghesie, mi piace declinarle a plurale, che non sono soltanto le borghesie imprenditoriali, ma sono i maestri elementari, gli insegnanti, i professori universitari di questo paese, la borghesia colta, gli happy five million, li chiama Beppe Severnini, quei 5 milioni di italiani che leggono almeno un libro all'anno, che comprano i giornali, che vanno al cinema. Non è una questione di portafoglio la borghesia, è una questione di valori, di culture, di profondità, di pensiero. E, altra parola che ricorsa moltissimo, di valori. Di valori che sono i valori dell'autonomia, ma anche i valori della solidarietà, che sono al cuore di tradizioni politiche precise di questo paese, che non hanno più rappresentanza. Ed ecco che, drammaticamente, quando si tratta di eleggere qualcuno a una carica pubblica, quel 70% di italiani diventa un 50% di italiani che votano. Io credo che in quel 20%, che sarebbe l'equivalente di una forza che prende il 40% con la metà degli elettori che vanno a votare, quindi una forza potenzialmente dirompente, lì dentro ci sia un pezzo, ovviamente non assorbente, ma significativo, di borghesia colta, che è in cerca di un'offerta politica largamente corrispondente al perimetro disegnato stasera da Stefano Orlando. Siamo minoranza, ne siamo consapevoli, ma non siamo mai stato così tanta minoranza ad essere totalmente irrilevanti in un paese che si può permettere quattro partiti comunisti. Credo che si possa fare un partitino di democrazia laica, in cui chi viene dalle tradizioni liberali, repubblicane, del socialismo liberale, della democrazia laica, possano ritrovarsi insieme e sono convinto che se usciamo dagli orticelli e parliamo delle ricette per il domani, noi che veniamo da tradizioni anche parzialmente diverse, che magari abbiamo spaccato il capello in quattro, abbiamo passato notti ad accapigliarci sulla differenza fra i liberali di sinistra e sinistra liberale, poi invece ci si possa ritrovare su un minimo denominatore di cose da fare per il paese, in una misura forse perfino più ampia di quanto ci possiamo aspettare. Un'ultima parola come dirigente pubblico, gira alcune ore su internet una battuta che non fa ridere, perché è drammaticamente vera, questa battuta dice ci sono più laureati in una cucina di McDonald's che nel governo di questo paese. Il dirigente pubblico è un signore che per mestiere prova a ricondurre a razionalità le legittime spinte della politica contrapponendoli o comunque limitandole con alcune evidenze empiriche. Il dirigente pubblico è quello che tiene il vincolo di razionalità rispetto alla decisione politica, il vincolo di razionalità giuridica, il vincolo di razionalità economica, organizzativa, finanziaria. Questo mestiere del dirigente pubblico non esiste più. Purtroppo, ecco, quei dirigenti pubblici che evocava Stefano Rolando sono ormai una minoranza, la politica mal li sopporta, la riforma Madia in qualche modo liquidava, chiudeva definitivamente i conti con gli ultimi dirigenti con la schiena dritta, con quel meccanismo pazzesco che forse la Corte Costituzionale è riuscita a stoppare. Ecco, ritessere un filo, se ripensiamo alle parole di Nenni quando diceva, quando siamo entrati nella stanza dei bottoni abbiamo capito che bisognava conoscere gli uomini dell'amministrazione che noi gli uomini dell'amministrazione non li avevamo. Ecco, ritessere un filo anche su questo, ricominciare a ragionare non soltanto di classi dirigenti politiche ma anche di classi dirigenti burocratiche, amministrative, intorno a un'idea di paese che fa fare i conti al proprio desiderio politico con le evidenze empiriche di ciò che è irrazionale, di ciò che è finanziariamente insostenibile, per ritornare a costruire alla luce delle ragioni che Stefano Rolando ci ha rappresentato stasera, un modo diverso di ricostruire sensate politiche, sia un'occasione che non dobbiamo perdere. Nel mio malessere, diciamo, da dipendente pubblico ormai con una grande difficoltà a svolgere il suo ruolo sento di poter aderire non soltanto come liberale ma anche come dirigente pubblico alla chiamata, a un lavoro serio. Poi se questo possa o no e in che tempi diventare anche offerta politica è una cosa che dovremo vedere confrontandoci su di noi. Bisogna però che i tempi siano stretti, che questi orti vengano coltivati in tempi ragionevoli perché abbiamo fretta di capire se è possibile ricostruire un'offerta politica. Perché, ripeto, noi non abbiamo un'analisi sociologica seria di come è composta in termini valoriali l'astenzione di questo Paese. Ma il 2 più 2 di quel 50-70% a cui facevo riferimento primo credo ci dica che non tanto, ma come uno dei tanti partiti comunisti che riescono ad entrare in Parlamento, forse una piccola forza di democrazia laica riusciremmo anche a riportarla. Grazie.